Buongiorno a tutti e bentrovati con l'informazione di Molise TV. Oggi è venerdì 2 ottobre. Come di consueto iniziamo il nostro appuntamento dedicato alla rassegna stampa leggendo insieme le notizie del quotidiano del Molise. Levata di scudi a difesa di Isernia e massimi esponenti politici regionali impegnati a scongiurare i tagli istituzionali. Frattura, Ruta e Leva mediano col Governo centrale per salvare Prefettura, Questura e Vigili del Fuoco. Il Presidente della Regione Frattura dice no al taglio della Prefettura, della Questura e del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Isernia. Per far recedere il Governo da questo proposito la Regione ha anche inviato una lettera al Ministro Alfano. I parlamentari Leva e Ruta hanno annunciato che si opporranno al provvedimento nelle commissioni parlamentari. Anche Iorio è sceso in difesa delle istituzioni isernine. Passiamo alle notizie del taglio alto. Bandito solitario armato di pistola e col volto coperto rapina l'ufficio postale. A Montelongo, magro il bottino, 2.000 euro. L'unica consolazione è che nessuno si è fatto male, nonostante lo spavento sia stato notevole. Un uomo armato e col volto attraviato da un passamontagna ha rapinato le poste dove c'erano pure due clienti. Monteroduni truffa dei contratti porta a porta smascherato. L'autore, grazie ai carabinieri, è stato possibile evitare nuovi clamorosi raggiri. Campobasso le vietano di vedere la figlia e in preda la disperazione si getta dal cavalcavia in fin di vita la 25enne di Campobasso che ha tentato il suicidio in un piccolo paese del Beneventano dopo essersi lanciata da un cavalcavia. E dalla cronaca passiamo al trasporto pubblico. Arrivano i mandati di pagamento. Un'ottima notizia per le concessionarie del servizio regionale. Ancora cronaca, questa volta giudiziaria, spese pazze dei gruppi consigliari quantificati gli ammanchi. Il buco ammonterebbe a 300 mila euro sei consiglieri indagati. Termoli, sull'immobile acqua di mare, una querelle senza fine. C'è ricorso al TAR ma arriva all'ordinanza del neodirigente comunale. Montenero, omicidio, l'indagato romeno fa scena muta dal GIP. È probabilmente una strategia difensiva, ma l'accusa resta. Passiamo adesso allo sport serie D, la grinta di Bucchi. Vogliamo dare la scossa all'ambiente. Figgici LND, Vito, Tisci, Molise si presentano i calendari delle giovanili. Proseguiamo il nostro appuntamento leggendo insieme le notizie del quotidiano online Futuro Molise. In risalto leggiamo la procura di Campobasso contesta manchi per quasi 300 mila euro a carico di sei ex consiglieri regionali coinvolti nell'inchiesta sulle spese dei gruppi consigliari di Palazzo Moffa. E poi il ditoriale Isernia, riduzione sistematica della presenza dello Stato sul territorio. Preludio alla macro-regione e alla fine della regione Molise, ma non tutti i mali, vengono per nuocere. E ancora leva e ruta all'accorpamento della prefettura di Isernia. Andiamo adesso avanti con le notizie di Primo Piano Molise. Fondi ai gruppi al via la stagione delle udienze. La posizione più delicata è quella dell'ex presidente del Consiglio, Michele Picciano. La procura li contesta una spesa di 242 mila euro. Soldi pubblici utilizzati indebitamente nei guai anche di Camillis, Terzano, Di Falco, Gentile e Bonomolo. Dal 7 ottobre riprendono le udienze sui politici coinvolti nell'inchiesta sulle spese dei gruppi di Palazzo Moffa. Alcuni sono davanti al GUP, per altri cominciano i processi. Le ammanchi contestati dalla procura sono sostanziosi. Delicata la posizione di Picciano. E poi il vertice a Palazzo Chigi, patto per il Molise. Frattura incontra il sottosegretario De Vincenti. Sul tavolo le priorità per rilanciare l'economia del territorio e l'andamento dell'utilizzo dei fondi dell'Unione Europea 2007-2014. Il governatore abbiamo recuperato il tempo perso. Nel taglio alto, omicidio di Montenero. Il romeno fa scena muta, ma il GIP lo manda in carcere. Accusato di aver massacrato l'amico in seguito a un malore, l'uomo è stato interrogato in ospedale. E poi rapina le poste di Montelongo. Bottino da 2.000 euro, arma in pugno e avvolto coperto. Il malvivente minaccia dipendente e clienti dell'ufficio. E ancora all'Unimol, la senatrice a vita Elena Cattaneo, illustre ospite alla giornata del dottorato. Isernia perseguita la vicina di casa per anni, denunciata una 58enne. Dopo anni di molestie, la segnalazione alla mobile è scattata quando la 58enne ha preso di mira pure i parenti della sua povera vittima. La donna ora è accusata di atti persecutori. E ancora una notizia dalla città Pentra, mobilitazione bipartisan per salvare Isernia dai tagli. I sindacati è a rischio l'intera regione. Proseguiamo con una notizia proveniente dall'Abruzzo, in particolare dalla zona di Vasto. Amministrative di primavera, l'ex sindaco Tagliente è pronto a tornare in campo. Passiamo adesso alle notizie sportive, Bucchi, quella dei tifosi non è stata contestazione ma un giusto di vicinanza. Il Campobasso cerca così il riscatto. E poi vittorie a tavolino per Gambatesa e Ielsi con Vairano e Torre Magliano. Continuiamo il nostro appuntamento leggendo insieme le notizie del quotidiano online in forma Molise. In risalto, Ruta Bene Ministro Martina per scelta No OGM per Italia. E poi il Festival con un palmo di naso, gli appuntamenti del 2 ottobre. 23esima edizione, incontri internazionali di poesia, poeti da tutto il mondo in Val di Comino, riconoscimento per Amerigo Iannacone. E conaci in Molise, semplificazione e risparmio per 270.000 molisani, pasto del personale della scuola durante il servizio mensa, Marinucci e Paradisi presentano interrogazione. E ancora durante del comitato possibile, mancato raggiungimento del quorum per il referendum, colpa anche della stampa nazionale. E il nuovo libro di Margaret Mazzantini sarà ambientato in Molise. Ordinazione presbiterale di donato con la Cicco e, liberamente insieme, festa annuale dell'Associazione degli utenti psichiatrici di Campobasso. Andiamo adesso avanti con le notizie della Gazzetta del Molise. La prima pagina della Gazzetta del Molise è titolata Dilettante allo sbaraglio. Il Consiglio regionale ci costa 4 milioni, ma senza risultati. L'Oscar del giorno è stato assegnato a Danilo Leva e Roberto Ruta, mentre il tapiro a Micaela Fanelli. Proseguiamo con la lettura delle pagine interne. A pagina 2 leggiamo Pasquale Penta, nominato amministratore unico di FIM Molise, sostanziali modifiche allo statuto su indicazione della Banca d'Italia. E poi sanità, allerta, tsunami. A pagina 3, la lunga epopea dei dilettanti allo sbaraglio. Più di due anni e mezzo di governo frattura hanno prodotto zero risultati. Una crisi sociale ed economica che non conosce inversioni di tendenza e più di qualche epocale magra figura su stampa e televisioni nazionali. Ma i nostri non si abbattono da bravi dilettanti. E poi Iorio stanno chiudendo il Molise. Frattura pensa ai selfie di Giacomo. Frattura, Nanni e la Barzelletta. E nel taglio basso Ruta. Ottima la decisione di Martina sugli OGM. E dai quotidiani locali passiamo a quelli nazionali. Vediamo le notizie principali di Libero. La volpona del deserto soffia la Libia a Renzi. Matteo ha chiesto per l'Italia la guida della missione Nordafrica. Invece l'ONU ha incaricato un tedesco. Risultato alla Merkel andrà all'oro nero. A noi soltanto i neri. Di che religione siete? Un ventenne entra in classe e fa una strage in America. I grandi insuccessi del governo. E poi sempre a nostre spese. Vendola, pensionato a 57 anni, giurava di abolire i vitalizi. Si intasca a 5.618 euro al mese. Pinotti, ministro centranilinista, adesso telefona la gente per piazzare tessere del PD. E in Olbia il ponte sullo schifo appena costruito provoca un'inondazione demolito. Andiamo avanti con le notizie della Gazzetta del Mezzogiorno. La battaglia sui voti segreti. Il governo studia le contromosse per evitare le trappole in aula. La labbia di Marino sul Papa su di me non doveva rispondere. E poi telecardiologia. Basta un clic per la diagnosi. Partenza sprint per il nuovo servizio. Nel Taglio Alto, Bari, i primi profughi trasferiti a Villa Rot. Entro oggi una trentina, soprattutto donne e piccoli lasciano dopo un anno la malsana a Tendopoli di Via Napoli. E ancora Xilella. L'Unione Europea non perdona l'ordine tagliare gli ulivi. Più abbattimenti eseguiti, meno sanzioni. Stefanum si elimini il blocco per le vite. Bruxelles a fine mese decide la procedura di infrazione. E poi c'era questo, c'era quello, quel cuore in grao. Nella Puglia, anni 70, chi voleva la luna con il leader Pietro. Nel Taglio Basso, la riforma porti in Puglia. Tali invista un autori autì solo a Taranto. Proseguiamo il nostro appuntamento leggendo insieme le notizie di avvenire. Scintille tra Stati Uniti d'America e Russia. In Siria c'è anche l'Iran. Assad pronto a una grande controffensiva. Migranti, l'accoglienza non basta. Il Papa c'è anche un diritto a non lasciare la propria terra. Missaggio per la giornata mondiale. No all'indifferenza. Un appello alle parrocchie. E poi riforme. La prima meta addio al vecchio Senato. Renzi superato l'ostacolo più grande. Ma è bufera in aula sul voto segreto. Continuiamo adesso con le notizie della Gazzetta dello Sport. Buffonata. Gigi dimenticato nel listone per il pallone d'oro esclusivo. Sei Juventini tra i 59. Ma il portiere ne è rimasto fuori. E nel taglio alto Baby Bomb viola. In Portogallo ride anche Rossi. E poi Magico Higuain. Un Napoli da urlo domina in Lega. E la Lazio rischia con il San Etienne in 9. E con questo è tutto. Grazie per aver scelto l'informazione di Molise TV. Vi lascio al meteo e vi auguro una buona giornata. Il meteo è offerto da Signora, dico a lei. Ha con sé gli assegni, spendi e risparmi di Molise TV? Corri a fare la spesa. Spendi e risparmi conviene. Spendi e risparmi non sono sconti, ma veri e propri assegni spendibili. Con noi la famiglia raddoppia gli acquisti. Dai un calcio alle rinunce quotidiane. Spendi e risparmi di Molise TV. E la famiglia torna a sorridere. Previsioni del tempo per venerdì 2 ottobre. Cielo molto nuvoloso su Puglia, Basilicata e Molise, interessate anche da piogge, a carattere sparso. Ventilazione in rinforzo dai quadranti sudorientali con scirocco più teso sui versanti ionici. Mari generalmente mossi. Temperatura in lieve aumento sia nei valori massimi che nei minimi. Campobasso minima 13, massima 19 gradi. Isernia minima 15, massima 21 gradi. Termoli minima 19, massima 22 gradi. Il meteo è stato offerto da Signora, dico a lei. Acconsegni, assegni, spendi e risparmi di Molise TV. Corri a fare la spesa. Spendi e risparmi conviene. Spendi e risparmi non sono sconti, ma veri e propri assegni spendibili. Con noi la famiglia raddoppia gli acquisti. Dai un calcio alle rinunce quotidiane. Spendi e risparmi di Molise TV e la famiglia torna a sorridere.